I 60 scultatori sorteggianti sono Audino Gelsomina, io dico solo l'anno di nascita, 1980, Castillo D'Antonio Donatella 1982, Fiano Clelia 1987, Di Lillo Antonio 1981, Martuccio Gennaro 1968, Parisi Gaetano 1948, Cioffi Anna Maria 1958, Zito Vincenzo 1982, Modesto Antonio 1974, Tamburro Vincenzo 1981, Vozza Domenico 1994, Savarese Elena 1988, De Muro Daniela 1988, Bencivenga Giuseppe 1983, Cusano Patrizia 1981, Di Gioia Maria Michela 1973, Marotta Giuseppe 1989, Petriccione Annalisa 1978, Sant'Anastasio Antonella 1967, Vitale Lorenzo 1987, Santoro Rosa 1961, Brignola Francesco 1964, Di Blasio Antonio 1971, Giannucci Maria 1971, Anicito Alessandra 1994, Sterle Giuseppe 1946, Coppola Nicola Giuseppe 1982, Petriccione Anna 1964, Maurizio Stefania 1979, Pratillo Maria Michela 1975, Russo Giuseppe 1972, Tamburro Catia 1973, Romano Leo 1980, Mingione Giovanni 1977, Castillo Antonella 1993, Altiero Clementina 1973, Deli Paolo di Maria 1969, Casertano Simone 1990, Cipolla Giovanna 1975, Falanga Anna 1989, Iotice Paola 1969, Massillo Francesca 1975, De Robbio Jacopo 1975, De Robbio Jacopo 1989, Cialdone Eva 1978, Integna Francesca 1949, Leone Michele 1991, Sant'Anastasio 1991, Sant'Anastasio Giovanna 1992, Robbio Teresa 1971, Cesare Francesco 1994, D'Amico Laura 1978, Caretto Sara 1988, Ferraro Francesca 1984, Letizia Carmen 1984, Martucci Angelo 1985, Reca Tommaso 1985, Camuso Rosetta 1959, Zardo Pietro Giuseppe 1980, Della Valle Ferdinando Angelo 1974, Cappiello Dana 1991, il sessantesimo sorteggiato è Bianco Saveria del 1968, questi sono i 60 scrutatori effettivi sorteggiati in natulanza pubblica. Ora mi accingo a leggere l'elenco degli scrutatori che sono stati sorteggiati nella qualità di sostituti, cioè in caso di mancazze di uno effettivo subentra il supplente. Arcella Caterina 1973, Cognetta Lorenzo 1964, Passaro Concettina 1960, Russo Giovanna 1963, Merrone Angela 1964, Santoro Antonio 1956, Della Valle Loredana 1988, Natale Carmela 1956, Vigilante Franco 1960, Filippella Michele 1995, Palladino Fabio 1992, Perna Loredana 1959, Corpo Carlo 1937, Di Giacomo Giulio 1945, Melone Anna Teresa 1986, Pasquariello Tiziana 1976, Pasquariello Tiziana 1976, Marrapese Luciana 1957, Zechender Mario 1976, Perrotta Italia 1954, Bozza Anna Maria 1975, Gappe Anna 1970, Rinaldo Antonietta 1969, Di Bernardo Rosa 1976 1976, Un po' di silenzio per favore, Gomez Alberto 1966, Gallea Giuseppina 1983, Maglio Francesco 1974, Pastore Tiziana 1978, Sagliano Maddalena 1973, Antinozzi Giuseppe 1973, Santonastaso Daniela 1985, Contoni Simona 1994, Petrone Maria Rosaria 1971, Petrillo Domenico 1991, Schultz Irene 1989, Cagliazza Alessandra 1985, Grimaldi Vincenzo 1973, Marruccello Maria Rosaria 1975, Pezzurlo Stefania 1992, Saiz Caglia 1985, Florenzi Ilaria 1976, Palladino Anna 1968, Carrozza Maria 1966, De Maio Grazia 1965, Casella Raffaele 1970, Bruno Silvana 1959, Campanile Giovanni 1986, Giordano Umberto 1968, Massaro Pasquale 1980, Parente Pietro 1975, Scialla Filomena 1963, De Michele Antonio 1985, Palmiro Rosa Viviana 1989, Onorato Armando 1993, Luongo Anna Maria 1946, Blonda Rosalia 1975, Buanne Angela 1978, Santonastasa Ogda 1945, Giannillo Anna Maria 1979, Babuso Ersivia 1963, ed infine Persichino Matilde 1970. Bene, e questi sono i 60 scudatori sorteggiati.